Amici di Youtube ben trovati a Marco Liguori appena morta la bellissima VIP in questo video parliamo di un tremendo dram avvenuto nelle scorse ore e prima di farlo vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video la giovane e bellissima VIP ha perso la vita da soli 39 anni si chiamava Inessa Polenko era di nazionalità russa la ragazza vantava un seguito molto nutrito sui social media in particolare su Instagram la ragazza è morta a 39 anni a seguito di una tremenda caduta voleva scattare una foto su una piattaforma panoramica a Gagra in Giorgio sul mar nero ma sfortunatamente la ragazza ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto Inessa Polenko ci lascia a soli 39 anni amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti